Con Riccardino, l'opinionista, a Retino, per parlare di questa coppia di fratelli, l'hai sentito nei tabloidi? No. Ma come te vuoi fare il giornalista? No, io non l'ho mai sentito mai l'estero. Questi sono due fratelli. Sorello e fratello. Eh, due fratelli, sorella e fratello. Che lui lavorava nella Concordia, nella nave che è baltata. Un'altra baltata, tutto. Al Giglio. Al Giglio. E quindi lui ha passato un grosso incubo, no? Sono inglesi. Ha avuto paura. Ha avuto paura l'incubata. L'ha incubata. L'ha preso un incubato. L'inculato. No, l'incubato. Ha avuto paura. È paura, sì. Lei invece, quindi, lei lavora a bordo di quella nave che della crociera costa? Costa, sì. Che se ora hanno rimorciato? Costa, l'ho rimorciato. Che vuol dire? Rimorciato? No, ma che ne desumi da questa storia? Io la storia, dico che... No, secondo me loro hanno passato due grossi incubi. Un'incubi. Un tempo un po' balotto. La madre di loro ha detto, sarà bene che cambino lavoro. Cambiano, sì. Io, mi viene anche un sospetto, ma mi comporterà a merda loro? No, no. Hanno avuto paura. Hanno avuto paura anche. Ho capito, ma ora ho paura io se a bordo c'è un di loro. Perché questi, dove vanno, fanno danno. Danno. Fanno casino, fanno. Rifai lo scioglilingua. Dove vanno? Dove vanno. Se fanno casino anche. Che rima c'è con casino? Dove vanno c'è la rima col danno. Ah, scusami. Dove vanno? Dove vanno? Fanno danno. E fanno danno. Allora, parliamo di una dichiarazione di Irina Saic, attrice. Questa è una bella attrice. Che ti faccio vedere Luca. C'è un bel personale. C'è un bel personale. A me capo in queste maniere così, a me queste donne così. Oh, mattina, hanno capito un po'. Ma anche a lei sicuramente, se vede il tuo poster, la rapi. Ha detto, amo gli animali, quindi potreste andare bene. Anche a me non mi piace. Amo gli animali, però anche le pellicce. Chi si scandalizza spesso dimentica le scarpe di cuoio che sta calzando. Che è vero, no? Questo è vero. Ti vedi gli animalisti. E poi c'è le scarpe di cuoio, no? Tante volte ce l'hanno anche capelluto. A proposito degli animalisti, ho sentito l'altro artigianito, che forse la sagra nana la faranno. La sagra? La nana la faranno. Eh, perché io mi dispiace. A me non mi piace animali. Ti piace la nana al forno? Sì, sì. No, la nana, sì. Ecco, ho capito. Le difendi, anche a me mi piace il po' l'arrosto. Ma non so mica di pensare di po'. No, no, no. Allora, ora te mi devi dire, noi si va in tutto il mondo, che ne frega nel Kentucky, ci ascolta uno del Kentucky, della nana, della sagra della nana di Monte San Salino. E va bene, ho detto una battutina, ho detto una battutina. Fai la nana? Allora, ultima notizia, l'Aquila è stato denunciato, l'avvocato Alberigo Villani, che è legale di questo militare che si chiama Francesco Tuccia, che era stato denunciato per violenza carnale, per estupro. Ah, stupro. Lui invece ha detto, non è stato uno stupro, è stato un rapporto estremo. Estremo. Che differenza c'è tra un rapporto estremo e uno stupro? Uno stupro vuol dire che stupra le persone, di cosa? Le ing***e, di cosa? C'è, la penetra... Le penetrazioni, che ne sapevo? E come dicono i latini, penetrazio, penetrazio. Penetrazio, sì, penetrazio. Penetrazio. Mentre l'estremo, per dire il rapporto estremo, hai mai avuto un rapporto estremo te? No. No. In che consiste? Io lo so questo, perché io non lo so mai, l'estremo non l'ho fatto mai l'estremo. Eh? L'estremo non l'ho fatto. Per dire una motosega. Ah, una motosega, quello che l'ho fatto. Esatto, cioè la tecnologia ha applicato alla masturbazione. Buongiorno. Io non l'estremo. Salutiamo, ciao Luca. Ma che Luca, quelli dell'Ave. Ah, ciao ragazzi. Ah, a proposito, eccolo. L'indovinello. L'indovinello, questo imitatore che farò, lo dite indovinare. scrivete al tip top, il negozio, che... Tip top, come si dice? Se bucate, scrivete al tip top. scrivete il vostro, indovinate questo personaggio, che sarà a VVT, come si chiama? VVT? a Caramallapo, ve lo farò, e ve lo dite indovinare. Vai. No, pietro, ve lo fare. Scusate, che è? La risata. No, la risata. La chiameremo, Iena Ride, però zitti. È un animale. È un animale. scrivete TOP1, scrivete TOP1, e levatevi dai canali. i boglioni. Grazie.